E' bianco come un fantasma! Bernadette! L'atto di fede di una ragazza. Ho visto una donna vestita di bianco, con una sciarpa azzurra. E su ogni piede una rosa gialla. Stai cercando di spaventarci! La fermezza delle sue dichiarazioni. Te lo dico per il tuo bene, non tornarci più. Ho promesso. E il sostegno trovato presso i più poveri. Penitenza! Bernadette, martedì alle 21.55 su TV2000.